Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo di aumento delle pensioni IMSS da 25,83 a 136 euro al mese in base all'età. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale, naturalmente è tutto gratuito. La maggiorazione sociale spetta nella misura di 25,83 euro al mensile al pensionato che raggiunge i 60 anni di età. Percepisce tal incremento per 13 mensilità fino al compimento del 64esimo anno. A partire dai 64 anni fino ai 69 anni l'aumento spettante lievita a 82,64 euro. Quando il pensionato compie 70 anni l'incremento del reato mensile diviene più sensibile e ammonta 124,44 euro oppure 136,44 euro. Se percepisce la quattordicesima mensilità avrà il diritto ad un aumento pari a 124,44 euro. In assenza di quattordicesima invece la maggiorazione sociale si attesta sui 136,44 euro al mese. Oltre al requisito anagrafico bisogna aggiungere quello reddituale. Quindi la maggiorazione di 25,83 euro raggiunge il pensionato con un reddito inferiore a 7.031,7 euro. L'incremento di 82,64 euro spetta i redditi non superiori a 7.770,23. Ed infine riceve l'assegno più cospicuo pari a 124,44 euro o a 136,44 euro il percettore di pensione con reddito inferiore a 10.043,87 euro. E anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione al prossimo video e un saluto a tutti. Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo di aumento delle pensioni IMSS da 25,83 a 136 euro al mese in base all'età. Prima di visionare il video come sempre...